Il Salutatore, il grande salutatore, salutiamo con il salutatore da teatro guione Butterfly di Sopra Fissù e Cala, come dice qualcuno e volevo far fare un saluto a tutti i fan di Mary Per Sempre e ragazze fuori che sono tra i miei film preferiti, sono due cult del cinema italiano, vi saluto cari amici fan di Mary Per Sempre e di Natale, la manina del salutatore per te, ciao Francesco Benigno, grazie di tutto